ciao loga ritmi oggi come da titolo vorrei farvi un video sulle piante che ho acquistato io questa tradizione diciamo che ogni volta che passo un esame specialmente se l'esame va bene mi compro una pianta però per gli esami degli anni scorsi nonostante gli ottimi risultati non ho comprato piante perché non ero a padova ero in irlanda e quindi oggi diciamo ho colmato questo vuoto che avevo ultimamente poi sto valutando anche l'aspetto diciamo economico del comprare piante in quanto sono abbastanza bravo a riprodurle e quindi a volte le compro anche col pensiero di poterle riprodurre per talea e poi venderle ed ho un assoluto bisogno di venderle dato che la mia camera in questo momento ha questo aspetto ho comprato una sanseveria al prezzo di 3,50 euro e l'ho separata praticamente era fatta da forse 4 o 5 piante unite poi a livello radicale e le ho separate e adesso vi faccio vedere da una sanseveria che si trovava in quel vaso lì ho ricavato questa questa e poi si è spezzata una foglia e l'ho messa in acqua a radicare le piante extra di sanseveria che sono venute fuori penso di venderle al prezzo di circa 2 euro è però voglio prima aspettare che diano segni di vita perché non vorrei averle uccise per onestà non venderei delle piante della quale saluto non sono sicuro poi ho comprato questa peperomia variegata non sono sicuro di che tipo di peperomia si tratti ma anche questa l'ho comprata soprattutto con l'idea di farne delle talee oppure di separarla e poi rivenderla però adesso aspetto un po che che cresca poi ho comprato una pianta che se non sbaglio si chiama camadorea non sono sicuro però si trova di là quindi adesso vi lascio una clip e niente queste sono le tre piante che ho acquistato oggi invece per quanto riguarda in generale le novità sul versante piante adesso vi faccio vedere un po di piante che sto riproducendo per talea qui abbiamo una talea di monstera deliciosa su cui se non sbaglio ho fatto anche il video ha finalmente radicato abbastanza da poterla mettere in vaso e quindi adesso l'ho messo in vaso e penso di venderla a breve poi ho fatto delle talee di potos un potos variegato bianco come potete vedere qui e ne ho piantata una le altre penso che le venderò direttamente come talee e poi sto facendo delle altre talee di ficus elastica mentre qui invece c'è una talea che avevo fatto tempo fa e di cui ho fatto il video che insomma spero diventi pianta a breve non muore però non cresce nemmeno quindi sto aspettando che inizi diciamo il suo sviluppo vero e proprio